due e tre quindi a sti quattro sciacquo coglioni prima di parlare del sick e di dire certe cose sciacquate un attimo la bocca con l'aceto io ragazzi se saliamo c'è caso che scappo da casa non so cosa cazzo posso combinare stasera io ve lo dico stasera non so cosa cazzo posso combinare stasera stasera non so cosa cazzo posso combinare io ve lo dico già c'ho le pattuglie ferme sotto casa ragazzi stasera posso essere molto pericoloso si bravo bro hai detto bene chi l'ha scritto questo? demon 22 si sono tutti leone da tastiera si sono tutti leone da tastiera che poi quando si li metti davanti allora vediamo un po' chi c'è si è cresciuta ragazzina ragazzi io a 5k c'è caso che ci scappo fuori da casa anche se sono un po' stanche non ho bevuto stasera però quando non bevo quando non bevo posso essere molto pericoloso più di quando bevo ok ragazzi ci siamo ci? allora fammi vedere un attimo una cosa allora fammi vedere una cosa allora ragazzi mi scrivete nei commenti se volete la diretta contro il coprifuoco la volete o non la volete o doppia il bastone ma forzo giuro ma togliami dopo allora vabbè figlio di puttana collaboratore però mi insultate perché mi seguite? cioè questo non capisco che cazzo mi seguite a fa? cioè se a me una persona non mi piace non la seguo non me ne frega un cazzo voi siete più falliti di me quelli che mi insultano ovviamente perché mi insultate e poi nella DM fate come i cagnolini fate come i cagnolini perché siete i cagnolini siete non tutti ovviamente perché fortunatamente c'è un sacco di gente che mi vuole bene però siete soltanto leoni da tastiera e basta puntalo si hai detto bene fanno tutte chiacchiere tutte chiacchiere allora 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 io non so se questa sera ragazzi fare la diretta veramente contro il coprifuoco pensa oh pensa la pattuglia se mi vede così mamma mia ragazzi queste sono le dirette queste sono le dirette che a me piacciono a me le dirette del secche adesso mi stanno copiando tutte ma le dirette del secche sono le dirette contro il coprifuoco e c'è poco da fare a me la diretta mi è stata sbloccata adesso adesso quindi che volete fare? no ditemi voi che vogliamo fare? ci vogliamo arrivare a 5k? così almeno guarda ve lo dice pure Batman arriviamo a 5k sì arriviamo o no a 5k? che stasera stasera famo il delirio però ragazzi molto probabilmente questa sera mi possono anche arrestare io ve lo dico ragazzi quindi mi possono anche arrestare questa è la benzina la benzina della tigra salvatore non mi chiamare un'altra volta devo dire stasera questa sera prevedo allora vediamo un po' ragazzi io sono qua siamo pronti? se voi siete pronti sono pronto pure io perché ci metto due secondi a scendere aspetta sono le belle che ora è? adesso il coprifuoco il coprifuoco è quasi pronto il coprifuoco e le multe le paga il SIC anzi mo le pubblico pure guarda allora 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 ragazzi diretta contro il coprifuoco siete pronti? comunque la diretta contro il coprifuoco l'ho voluta fare io a Roma per fare contenti i miei i miei colleghi che mi seguono ok ragazzi a meno dico cazzo ho fatto la diretta contro il coprifuoco pure a Roma allora vediamo un po' ragazzi se saliamo facciamo la diretta contro il coprifuoco minchia io spero che non salimo io vi dico la verità io spero che non ci arriviamo a 5k perché se no mi tocca scendere veramente perché voi lo sapete voi lo sapete che quando quando dico una cosa è quella quando dico una cosa è quella e non mi sbaglio ok il SIC è una parola se dice una cosa la fa e non la fa a chiacchiere la faccio perché la faccio punto io spero che non arriviamo a 5k però ragazzi se arriviamo a 5k mi tocca scendere veramente e so cazzi amare dopo perché dopo quando dal momento in cui io esco di casa dopo mi inferocisco proprio quando vedo il buio mi se tappa l'avena vabbè coglione va bene allora vediamo un po' vediamo un po' che c'è qua? che saliamo e vi faccio entrare qualche patatina vediamo se vuole entrare questa ma chi è? uè Fabio no è molto carino perché io in realtà ti ho mandato una richiesta per sbaglio però mi ha invitato e mi ha fatto molto piacere tesoro io sto aspettando dimmi scusami se mi vedi così con la bocca aperta sai che la tigre feroce dopo si ingrisse no 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 perdonami perdonami abbiamo quasi sì praticamente questa sera questa sera prevedo qualche diretta feroce di quelle feroce feroce non molto feroce perché ti banna non succede un casino perché perché mi banna perché perché esco fuori di casa mi possono fare al limite mi possono fare qualche multa come quello che ho preso adesso mi possono fare qualche multa ho preso tre quindi una più una meno che cambia putitanto sì vabbè io questa sera mi sono messa in rosa in fucsia cosa ti sei messa te so ma fai vedere bene fai vedere bene il tuo balcone eccolo il mio balcone ragazzi vi piace questa topolina piace eh eh no perché ti devo dire una cosa te so le mie tigri hanno sempre voglia di spruzzare dalla mattina alla sera perché l'ho abituato ebbene io madonna stanno sempre tarrapate come si chiama a Napoli aspetta che più una siglietta un attimo secondo me un po' un po' perché praticamente qua si arrivano a 5k mi sa che mi tocca uscire di casa sì ma secondo me posso chiedere sei andato mai al letto con la maschera di Batman così sei andato mai al letto no no veramente no no mai visto che è un bel fisico un balletto potresti anche farlo un bel balletto sexy con un po' di musica io non ce l'ho con la musica ce l'hai il balletto lo facciamo a 5k facciamo così facciamo prima un po' di suspense un po' riscaldare la fauna a 5k io devo uscire di casa e mi tocco uscire veramente come devi uscire di casa scusami allora una persona non sa Fabio meno male che siamo un po' calati perché se arriviamo a 5k mi tocco uscire di casa veramente dopo Fabio mi dispiace ma la donna sono io e quindi decido io tu a 5k lo sai che fai esci in accappatoio e ti spogli per strada te lo levi semplicemente no no fermate le mie dirette no io non mi spoglio per strada io quando scendo mi metto la maschera di pattimo e parto come un cavallo anzi come una tigre dai adesso faccio il ballettino che tra un po' ti devo salutare perché c'ho da fare tre cose fammi un ballettino te prego bella raga bella raga aspetta la tigre sta spruzzando sta spruzzando raga vai 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 raga la tigre va bene tesori ti do un bacione ti voglio bene ti ha fatto piacere che sei entrata ok ciao tesorino hai visto ragazzi ogni tanto pure io faccio entrare qualche piccola topolina per fare contenti i miei follower le mie di madonna mia stiamo salendo qua mamma io spero che ci sbassiamo raga altro che salino perché se qua saliamo ancora mi tocca mi tocca veramente uscire di casa allora si è cresciuta ragazzina allora ragazzi fammi vedere che c'è linea qua che c'è chi sta scrivendo dai facciamo entrare lei dai vi faccio entrare un'altra patatina tesorino come stai bene ovetto de kinder come stai perché ovetto kinder te so perché si ho questa testa pelata io ti chiamo ovetto kinder qua c'è stanno i fan tu accaniti che mi vogliono in diretta ma che boh oh dio aspetta come i fan i fan i miei su accanieri ma comunque se devi entrare qualcuno fa entrare le ragazze belle oh non è no adesso guarda ti fassi una cosa le mie dirette guarda ti dico una cosa adesso io di solito nelle mie dirette le donne non le faccio entrare mai perché io adesso mi hanno aperto le mie dirette ma mia che onore sono onorata ma poi scusate non le faccio no veramente te lo dico veramente a Roma quando io non ci sto cioè io la settimana questo weekend sono a Roma e te non ci stai te so però te lo dico chiaro te so però se vengo a Roma e te vedo te spruzzo io te so sto feroce te lo dico ma te spruzzo io in testa che amore ho dicendo oh oddio aspetta che faccio ma che stai combinando oh mi è cascato l'asciugamano qui è boh dai te so non mi fa sti casini che qua c'ho le tigre tutte assetate sono vabbè va bene come balcone no pure il mio sì ma adesso non te prego te prego senti ma che c'hai oggi che sei agitato dimmi che c'hai no perché no ma sai cos'è che dopo mi chiudono la diretta a me poi non la posso fare per mese dopo capito ma che fai che sei incazzato stasera che succede ma co io sono tranquillissimo ho aperto la diretta così tanto per aprile dico ma vediamo che succede ho visto le vute mandami le multe te le faccio le vattute cosa? mandami le multe te le faccio le vattute sì ormai le ho pagate usate così a me ho preso 1000 euro da tutti ma sei un coglione che paghi sei un coglione con questi tempi non si deve pagare un cazzo steso devo pagare devo pagare perché sennò a me me ne fanno scontare poi là me ne fanno scontare capito? vabbè non ti preoccupare c'è papà Gamberini chi è Gamberini? è mio papà è penalista steso però facciamo contenti con che mi è polla fai un ballettino con un po' di musica amore ma che faccio? ma io so guarda come sto ho l'asciugamanno addosso sì sei matto sei matto non c'è matto non c'ho ma quelle mutande non c'è niente ti sei fatta la doccia ti sei improfumata ti sei messa la crema tutto a posto? sì tutto a posto tutto a posto ora tra un po' vabbè volevo giusto e dare per farti un saluto va bene allora a me mi ha fatto tanto piacere ha fatto tanto piacere però prima o poi ragazzi lo dico qua davanti a tutti prima o poi la spruzzo ve lo dico prima o poi la spruzzo io e Simona te spruzziamo altro che tu a noi a voi chi è Simona chi? Simona chi? Simona chi? eh sai bene chi? eh sta zitto non mi fa meglio che non faccio non dico niente vado ciao 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 allora ragazzi qua mi sa che devo comunque prepararmi devo preparare il mangiallo devo preparare tutto ragazzi è che qui mi sa che si arriva ancora anzi meno male che scendevo vediamo un po' chi c'è in linea vediamo un po' allora vediamo nei commenti niente raga allora vi dico una cosa il SIC non ha neanche bevuto se arrivavamo forse a 5000 forse magari la potevo pure fa magari la dieta contro il coprifuoco però devo essere sincero non è che sono proprio carico carico a palla però ci saranno tante occasioni per farla ancora migliore ok mi sono svegliato stamattina alle 10 mamma ero stanchissimo bello vado a fare un po' di spesa guarda che cazzo di tempo di merda che c'è qua e niente raga finalmente qua sono riuscito a trovarmi l'osso per la tigre bella raga niente raga oggi giornata sfigata mi è cascato l'olio dove cazzo mi muovo io faccio sempre danni e vabbè ha fatto la spesa mi vado a fare un bel spaghetto con il pollo e pomodorino fresco poi oggi pomeriggi mi vado a allenare e poi vado a spruzzare bella ragazzi non voglio fare il preso in poso anche se lo so fare molto bene però quando sento troppe chiacchiere a casa mia si dice che le chiacchie se le portano via il vento quindi voi più chiacchierate e più mi fate sentire importante rimanete sempre lì dietro di me sono tutti invidiosi mira che non ho caso al final me busco un caso invidioso sono tutti invidiosi mira che non ho caso al final me busco un caso invidioso niente ragazzi è stato un cambiamento di programma a posto del polo ci ho messo il macinato però è buonissimo però non può mancare la spruzzata di parmigiano la spruzzata buon appetito a tutti allora ragazzi il sicchi c'ha solo due profili questo e questo che vi sto taggando adesso altri tutto fake ok? bella hot stop in italiano hot stop Ricky Nair Max poveri in Valenciaga giri con la pistola prenota la bara cucino un brick a colazione da 31 a 39 8000 nuovo Rolex voglio una se sono un uomo nuovo giuro che mi sono fatto da solo però al telefono ci sono loro sentono tutto quello che dico giuro ho sbagliato ma mai pentito auguro il meglio anche il mio nemico col terzo dito la mia mamma è stato chiedere ciò che voglio devo caddino per il sogno mi è un figlio e una moglie che non so che non so che non so che non so quando mi non so allora ragazzi questo vi dimostrerà a tutti quanti che io sponsorizzo solo roba originale guardate quanto sono belle queste scarpe qua fanno paura raga fanno paura adesso avete capito perché il ziki sponsorizza poco perché poco giusto ma buono ma soprattutto di qualità perché io non prendo in giro i miei follower soprattutto le mie tigri feroci che mi sostengono sempre ok bella allora raga se qualcuno si vuole mettere in saccoccia qualche soldino extra questa è la pagina giusta non c'è bisogno che ve lo spiego perché io ogni volta che faccio una cosa mi informo molto bene con chi c'ho a che fare e questa è gente seria senza patente ancora i polsi senza manette niente non facci niente dove vanno così è 17 e 27 no fa un culo sbirra e la giustizia ho la pressione alta come con la liquida grazie a tutti